Buonasera a tutti. 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 Insieme ai cittadini e insieme anche a tutti i professionisti che in questo percorso ci hanno incontrato e con cui ci siamo confrontati. Alla Regione ovviamente non avete amministrato, non avete governato, ma in alcuni comuni della Sicilia, Alcamo, poi anche Bagheria e altri, siete già al comando delle leve degli ingranaggi. Magari vi siete resi conto che fra il proporre, pensare e poi l'agire ci sono in mezzo tantissime difficoltà. Sì, sicuramente essere al governo di una città presuppone una grandissima responsabilità che poi è quello che è stato fatto anche ad Alcamo come in tutti gli altri comuni. Si è avuto il coraggio di prendere anche delle decisioni che seppure all'inizio magari potevano essere impopolari. La volontà comunque in buona fede è stata sempre quella di creare delle programmazioni, delle pianificazioni, delle regolamentazioni che nell'arco di un tempo X daranno dei risultati importanti, come è stato ad esempio con il regolamento dell'acqua, dei pozzi, tutte cose che magari all'inizio hanno provocato un attimino un periodo di destabilizzazione. E quindi comunque c'è stata la consapevolezza che era quella la direzione obbligata da prendere in maniera responsabile per i cittadini, come ad esempio il togliere una porzione di acqua non potabile dagli usi potabili, dagli usi civili destinati ai cittadini, è stato un atto di responsabilità e un atto di rispetto della legge che all'inizio ha portato sicuramente qualche destabilizzazione ma in questo momento si è inserita all'interno di un processo di programmazione che si sta quindi risolvendo e che migliorerà, levererà enormemente il problema nell'arco di qualche mese, anche in termini di turnistiche dell'acqua destinate ai cittadini. Ci sono state polemiche non indifferenti perché insomma altre correnti di pensiero dicono l'acqua non potabile si potrebbe utilizzare per altri usi ovviamente non civili, in questa maniera senza le autorizzazioni i pozzi invece sono chiusi, però è importante che almeno ci sia la volontà di programmare. Si sta lavorando anche nella direzione infatti di destinare una parte delle acque non potabile per gli usi non civili, si sta lavorando proprio a questo così come si è fatto questa estate con dei bandi che però purtroppo non sono andati a buon fine. Per quanto riguarda invece il territorio provinciale nel suo genere, diceva che si è occupata di rifiuti di ambiente, io ricordo anni fa un primo incontro, forse una sorta tra virgolette di compromesso storico perché il primo faccia a faccia che avete avuto con un'amministrazione non pentastellata è stata quella con Sebastiano Bonventre per il piano fognario, un progetto di massima ad Alcamo Marina. Credete che sia un progetto realizzabile e che ovviamente necessita di una quantità enorme di denaro pubblico? Sì, devo dire che con l'ex sindaco Sebastiano Bonventre è capitato di un confronto, un tavolo sia su questa questione importante del sistema fognario mancante ad Alcamo Marina che su una questione molto importante relativa a un argomento relativo ai rifiuti che magari se vuole ne possiamo anche parlare. Su questa cosa del sistema fognario ora è stato inserito in una progettualità di recente da parte dei dirigenti di Alcamo il progetto preliminare per il sistema fognario per Alcamo Marina. Quindi sta avendo proprio in questi giorni un avvio verso una maggiore concretezza. Quindi tutte le battaglie, innanzitutto la denuncia di una situazione che non era neanche stata portata mai all'attenzione dei cittadini perché quello è un golfo importantissimo per tutta una serie di questioni ecologiche e turistiche per il nostro mare, per la nostra economia. Quindi abbiamo innanzitutto una battaglia anche un pochettino impopolare all'inizio denunciare questa cosa nel nostro mare che è un mare meraviglioso. La denuncia ha portata anche ai tavoli europei con la collaborazione di Ignazio Corrao e adesso questa concretezza che è stata inserita in una pianificazione da parte del dirigente di Alcamo, Parrino. Bene, se non sbaglio ha una laurea in scienze naturali, quindi insomma la natura, l'ambiente fa parte del proprio bagaglio personale. Rifiuti, come diceva, è un problema serio per il territorio. In provincia di Trapani c'è una discarica borranea che è quasi sempre piena, ha quasi sempre problemi. E allora come si può risolvere secondo 5 Stelle, secondo Valentina Palmeri, il problema dei rifiuti che purtroppo da troppi anni è un'emergenza in Sicilia? Sì, allora innanzitutto non si deve risolvere secondo l'idea di questo governo Crocetta ma anche dei governi Cuffaro-Lombardo che è quello degli inceneritori. Infatti prima facevo riferimento a una battaglia che ha visto protagonista me e l'ex sindaco in quell'occasione a Castellammare del Golfo durante la presentazione di un progetto di gassificatore che nelle idee di un protocollo d'intesa che si voleva firmare quel giorno tra una società privata e i sindaci del Trapanese voleva sorgere proprio nel comune di Calatafimi-Seggessa. Adesso è ritornato in auge questo gassificatore. Tra l'altro senza consiglio comunale c'è stata una presentazione, non ho capito se sia un protocollo d'intesa o se è già l'avvio della realizzazione. No, già ci sta. Allora, innanzitutto devo ricollegarmi a quel passo perché sono due situazioni collegate. In quell'occasione abbiamo denunciato io insieme alle associazioni, insieme al ruolo dell'ex sindaco c'è stata questa concertazione e quel giorno abbiamo fatto sfumare questo protocollo d'intesa questa firma per questa costruzione di questo gassificatore. Adesso cosa è successo? Sempre nel territorio di Calatafimi-Seggessa il sindaco Shortino ha portato avanti in maniera, diciamo, poco... non ha reso partecipi cittadini... Anche perché non c'è il consiglio comunale. Anche perché non c'è il consiglio comunale. però allo scadere dei termini per la partecipazione, per la concertazione ha presentato questo progetto, presentandolo come un progetto di biometano. E invece è biometano o biogas? Biogas, biometano. E invece è un gassificatore. Ora, in realtà, una linea produttiva di questo progetto è per il biometano ma guardando il progetto che io ho richiesto lo scorso giugno e poi dopo due mesi, quindi con forte ritardo al solito, la regione mi ha fornito una relazione generale di questo progetto abbiamo visto che non si trattava soltanto di un progetto, diciamo, biometano ma si trattava di un vero e proprio gassificatore sempre nel territorio di Gallitello e sempre nei fatti lo stesso progetto. Con lo scarico nel fiume San Bartolomeo che significa in una zona dove il turismo sta davvero decuplicando. C'è veramente grave questa questione anche per la poca partecipazione perché Gallitello e l'Otto è cittadino, un progetto di questo tipo che non va neanche esperti hanno visto l'antieconomicità sono di più i costi e gli investimenti, lo smaltimento poi dei materiali che si producono a questo tipo di impianto che benefici per la popolazione anche in termini di costi di lavoro, di posti di lavoro e posti di lavoro che si avrebbero da un'altra visione dei rifiuti che è quella del nostro programma sarebbero enormemente maggiori. Allora questa visione Volevo facendo un attimino un passo indietro durante quella presentazione io ho fatto avere una nota politica che ho fatto leggere a una persona, a un avvocato quel giorno dove abbiamo denunciato proprio questo progetto che in realtà non si trattava di un progetto di biometano ma si trattava di un gassificatore che faremo di tutto così come abbiamo seguito in questi anni dal 2014 ad oggi continueremo a seguire a cercare di fermare questa volontà di creare questo impianto che già va avanti da anni e che ora si ripresenta sotto altre spoglie con un'altra società che si chiama Solgesta. Dunque allora, no agli inceneritori, no ai termovalorizzatori, no ai gassificatori no alla delocalizzazione della Bertolino un'altra battaglia che avete portato avanti allora per quanto riguarda i rifiuti invece la vostra proposta concreta qual è? Sì, in realtà sono di più i sì che i no per quanto riguarda la nostra visione perché noi siamo assolutamente per l'economia per la tutela dell'economia del nostro territorio quindi la salvaguardia di tutte le aziende che sono nate in quel territorio parlando per la vicenda della Bertolino in questi anni i cittadini hanno chiara la visione di economia che vogliono sviluppare in quel territorio che va verso la tutela dell'agricoltura verso la tutela del turismo e verso la tutela dei prodotti agricoli quindi si vuole andare in una determinata direzione che già è stata tracciata in maniera naturale dai cittadini di quel luogo e quindi fra l'altro si tratta di più comuni non si tratta soltanto di Partinico si tratta di Alcamo, si tratta di Balestrate eccetera eccetera per quanto riguarda i rifiuti quindi non si tratta di dire no a un impianto ma si tratta di dire sì a un'economia sì no è per rispondere ad alcune polemiche che a volte ci accusano di dire sempre no ma in realtà si tratta di andare a tutelare quello che già c'è a fronte di una sola impresa che vuole nascere noi vogliamo evitare la chiusura di centinaia di imprese che in questi anni sono nate e di tantissimi cittadini che potrebbero andarsene altrove quindi per quanto riguarda le politiche dei rifiuti noi siamo per la strategia rifiuti zero che parla di riduzione, riuso, riutilizzo, riciclo, raccolta differenziata questo cosa significa? Significa che gli investimenti pubblici i fondi pubblici che arrivano in Sicilia devono essere finalizzati attraverso un piano dei rifiuti che la politica si è sempre intestardita a non attuare per convenienze per la tutela di interessi criminali bisogna dirlo questi soldi pubblici noi intendiamo utilizzarli verso la costruzione di impianti che vanno a chiudere il ciclo dei rifiuti del nostro ambito di ogni ambito e quindi innanzitutto bisogna la priorità è andare a trattare l'umido e quindi gli impianti che si devono costruire sono gli impianti di compostaggio che vanno ad abbassare i costi a carico delle amministrazioni che vanno a portare sostanza organica umus per le aziende agricole quindi a tutela dell'agricoltura e a tutela dei costi per la pubblica amministrazione e a tutela dell'ambiente perché l'umido è quello che provoca il percolato quello che va a inquinare le falde idriche quindi è la priorità quindi la priorità sono questi impianti di compostaggio e poi per chiudere la filiera bisogna andare a investire a puntare su tutta quella impiantistica quindi che va a dare nuova vita ai materiali che va a ridurre e poi fare tutti quei protocolli di intesa per ridurre a monte i rifiuti quindi gli imballi con le catene di distribuzione dei cibi con la ristorazione collettiva puntare su materiali biodegradabili evitare il monouso il più possibile insomma tutte quelle serve un piano un progetto a 360 gradi il piano tra l'altro quello di Crocetta credo sia stato bocciato l'ultimo piano dei rifiuti è da circa 20 anni che stiamo in emergenza è un'emergenza voluta e mai risolta la stessa contrafatto noi abbiamo fatto dei tavoli con lei su questi impianti di compostaggio di Calatafimi nel territorio dove vogliono sorgere lì il gasificatore proprio in quel territorio era destinato un impianto di compostaggio il quale era già stato finanziato il ministero aveva stanziato 200 milioni diversi anni fa e questi soldi non si sa dove sono andati a finire io stesso ho presentato un'interrogazione nel 2014 non ho mai avuto risposta ora abbiamo girato questa interrogazione anche ai nostri colleghi al senato perché vogliamo far luce su questi soldi impianti di compostaggio circa una ventina in tutta la Sicilia già dovevano essere stati costruiti i soldi erano stati stanziati ma volontà politiche che andavano in direzione diversa sia nella direzione di mantenere il sistema della discarica nei fatti perché la raccolta differenziata va contro il sistema discarica e quindi chi fa business con la discarica che manovra e controlla anche moltissimo il voto regionale e l'elezione dei presidenti dobbiamo dirlo anche questa cosa spero che i cittadini i presidenti della regione ah i presidenti della regione da quello che abbiamo visto dalle vicende dal modo di gestire la politica del rifiuto nelle ultime legislature non soltanto il governo che preferiscono mantenere le discariche sì un piano dei rifiuti non sono stati in grado di farlo non sono stati in grado di uscire dall'emergenza la stessa contrafatto abbiamo fatto dei tavoli con lei per mettere puntini sulle I sugli impianti di compostaggio non ha fatto assolutamente nulla cioè è incredibile Onorevole Palmeri questa Sicilia l'economia siciliana dicono i detrattori di Crocetta è stata rovinata o come dico io così scherzosamente la Sicilia è stata crocettizzata per certi versi però mi pare che in avvio di questo progetto Crocetta si parlò anche di un progetto Sicilia che vedeva coinvolto il movimento 5 stelle insomma all'inizio il modello Sicilia il modello Giuditta insomma c'era una sorta di feeling di amore avete se non sbaglio mi corregga applaudito all'abolizione delle province perché c'era uno recupero di denaro poi però insomma quest'amore non è più andato avanti allora diciamo che è stata un pochettino storpiata una nostra frase noi abbiamo sin dall'inizio detto che avremmo sempre appoggiato le buone idee da qualunque direzione venissero dal PD da Forza Italia noi non siamo mai volute essere un'opposizione fine a se stessa tanto per dire no e non l'abbiamo mai fatto sulle province abbiamo sempre detto che eravamo contro le province però poi nel modo in cui sono state abolite è stata una fregatura è servito semplicemente per bloccare tutto per bloccare i finanziamenti per creare disorganizzazione e instabilità con il personale i dipendenti le scuole le strade all'inizio ovviamente il nostro approccio doveva essere è stato più di apertura verso certe riforme come l'acqua pubblica che poi si è dimostrata un flop verso le province si sono dimostrate un flop noi abbiamo appoggiato ma fino a un certo punto poi nel momento in cui invece si dimostravano per quello che erano semplicemente delle prese in giro per i cittadini non abbiamo mai appoggiato nessuna riforma quindi il modello Sicilia ma nei fatti non è mai esistito diciamo che forse ci avete creduto e poi avete fatto il mia culpa perché vi siete resi conto che insomma Crocetta aveva i suoi bei difetti all'inizio quando c'è stata la riforma delle province in realtà si erano presentate in un modo ma poi sono state tutt'altro nei fatti noi vedevamo i liberi consorsi organizzati diversamente c'è proprio una visione completamente diversa all'inizio abbiamo dato più tempo però poi nei fatti le cose sono andate diversamente aereoporto di Birgi anche lì la regione ha le sue responsabilità direi anche così come i comuni perché ancora sono pochi per esempio quelli che hanno stanziato le somme per il co-marketing è il volano dell'economia deve rimanere tale però mi pare che ci siano problemi sì allora sull'aeroporto sicuramente è un qualcosa da tutelare fortemente per il nostro territorio ci sono stati dei problemi nella gestione di ARGES anche di gestione poco trasparente che andrebbero chiariti proprio per evitare di perdere questa importante risorsa per il nostro territorio per il turismo a questo scopo io ho presentato delle richieste di accesso agli atti sulle convenzioni fra ARGES che è la società di gestione dell'aeroporto Ryanair da un lato è ARGES è AMS Limited che è la società del marketing addetta appunto al marketing e queste convenzioni questi accordi praticamente non ci sono stati forniti né a me né al senatore Sant'Angelo perché poi abbiamo presentato questi atti contestualmente perché protetti dicevano da una clausola di riservatezza e segretezza quindi a me sembra innanzitutto gravissimo che una società pubblica come ARGES che al 52% è partecipata dalla regione quindi da enti pubblici tra l'altro dovrebbe passare al 60% qualcosa la regione esatto ci sia questa poca poi consapevolezza di questi soldi come vengono gestiti a parte dei cittadini poi sappiamo che negli anni passati a quanto sembra leggendo molti articoli di giornale ci sono state anche posti di lavoro date un po' da tutti i partiti noi siamo per la tutela ovviamente di tutto quello che c'è come posti di lavoro in questo nell'ARGES e tutto quello che gira attorno all'aeroporto però sicuramente bisogna serve maggiore trasparenza perché ci sono in ballo i soldi dei cittadini e soprattutto serve fare chiarezza anche nella legislazione perché i comuni ad esempio il comune di Alcamo responsabilmente ha fatto la sua parte nell'accordo di co-marketing la sua quota il comune di Alcamo l'ha pagata altri comuni forse ancora alcuni no il comune di Alcamo la stava pagando mi pare era stanziato mi pare c'era stata una dichiarazione del sindaco Surdi che diceva contribuiremo però ancora la somma vera e propria non c'è c'è il sì del sindaco che credo sia già più di una garanzia ovviamente sì assolutamente e quindi come dicevo noi ci stiamo muovendo per continuare ad avere le risposte che abbiamo cercato allo scopo di promuovere anche maggiormente poi questo turismo nel nostro programma abbiamo inserito alcune cose che potrebbero servire per migliorare diciamo questa gestione di quest'aeroporto ad esempio il fatto di avere una cabina di regia unica che vada a discutere con le compagnie aeree questo sarebbe importantissimo perché ad oggi diciamo che ogni territorio fa per sé non c'è una visione unica di quelle che sono le esigenze dei vari territori e questi aeroporti poi dovrebbero essere interconnessi con tutti gli altri mezzi di trasporto per promuovere il territorio in maniera adeguata e quindi ci dovrebbe essere una cabina di regia unica per gestire le compagnie appunto queste compagnie aeree per quanto riguarda poi questi il co-marketing noi stiamo anche cercando di approfondire la tematica legislativa perché sembrerebbe leggendo approfondendo un po' meglio la tematica che ci sono alcune voci discordanti sulla opportunità da parte dei comuni di fare questi aiuti perché secondo alcune interpretazioni sono aiuti di Stato sì aiuti di Stato in pratica mi pare di capire che con soldi pubblici poi alla fine si va ad aiutare una compagnia aerea quindi un'impresa privata e così o non è così? Allora è appunto un governo responsabile dovrebbe innanzitutto mettersi il ferro dietro la porta e premurarsi che un comune non vada incontro al rischio poi di dover pagare delle sanzioni da parte della comunità europea e quindi bisogna o comunque di dover pagare di tasca proprio con tantissimi sacrifici i comuni fanno la loro parte responsabilmente pagano la quota quindi bisogna verificare la legislazione europea la legislazione nazionale in tema di aiuti aiuti di Stato evitare appunto che i comuni vadano incontro a sanzioni di questo tipo la cabina di regia unica poi ovviamente la priorità è salvaguardare la presenza ecco di questa compagnia aerea Ryanair nel nostro territorio ma non solo perché per precludersi anche ad altre compagne aeree non ha senso il monopolio no assolutamente no bene onorevole parliamo un po' di 5 stelle così in una famiglia quando si è in pochi è più facile essere tutti d'accordo chiaramente la famiglia poi crescendo ognuno comincia ad avere le sue le sue diversità c'è unità assoluta in 5 stelle o sono le gente metropolitane che per esempio anche ad Alcamo si sono creati due anime all'interno del movimento e poi tra l'altro questa cosa mi fa pensare al fatto che a mio modesto parere chi prende tantissimi voti alle regionali avrebbe dovuto avere un posto nel listino invece nel listino va il Mazzarese Tancredi che ha più di 3.000 voti da Valentina Palmeri noi siamo persone tutte molto diverse la bellezza del movimento è che riesce a mettere insieme tante teste diverse personalità diverse sensibilità diverse e quindi magari potrebbe sembrare un occhio poco attento che ci sono delle correnti assolutamente questo problema non c'è anzi noi lo prendiamo come un motivo di ricchezza alcune differenze nell'approccio nelle sensibilità proprio per riuscire a fare ad avere un'azione politica più ricca frutto di un confronto maggiore poi il confronto infatti a tutti i livelli a livello regionale comunale nazionale europeo è proprio la cosa che ci ha sempre contraddistinti dal primo giorno sia ad esempio anche le vicende locali la rete fognaria di Alcavo Marina la vicenda dell'aeroporto poi alla fine questo è quello che conta è riuscire a fare rete e collaborare in agricoltura col piano agricolo con Ignazio Corolla abbiamo fatto tante battaglie insieme per la tutela del nostro Made in Sisera poi quello che conta credo che sono le azioni e le risposte io non conosco il vostro molto dettagliatamente il vostro regolamento il vostro statuto ma lei si aspettava il posizionamento nel listino o no? ma no neanche ci speravo allora ci siamo dati una regola che è stata quella del capolista quindi all'interno del listino è andato chi ha preso lui Sergio Tancredi ha preso qualche voto più di meno nelle nostre primarie nelle nostre regionarie votazione online e quindi gli spetta il posto nel listino non abbiamo scelto un criterio diciamo legato a fiducia o altri criteri di questo tipo abbiamo scelto con Giancarlo Cancelleri questo criterio che è andato bene a tutti e alla fine va bene così tutti questi deputati assessori sindaci senatori del Movimento 5 Stelle tutti quanti avete un vincolo di due mandati nella stessa carica secondo lei quanti di questi continueranno a fare politica e se Valentina Palmeri dopo il secondo mandato speriamo che vada bene possa pensare di cambiare settore senato comune camera o qualcosa questo sarà il mio ultimo semmai sarò rieletta sarà il mio ultimo mandato perché noi lo abbiamo sempre detto cittadini la politica per noi è un ruolo momentaneo io oltre ad essere cittadina attivista politico mi sento sono soprattutto una mamma che sta cercando di dare il suo contributo per evitare che le generazioni le nuove generazioni i giovani possano avere un'opportunità in più per rimanere in questa terra perché io personalmente come tanti miei cittadini ho visto amici andare via da Alcamo dalla Sicilia e non vorrei mai che ad esempio i miei bambini non per loro scelta se ne andassero dalla Sicilia noi stiamo cercando di cambiare questa terra di trasformare la politica che è stato privilegio è stato tramandarsi i ruoli di potere di padre in figlio ecco questa cosa la dobbiamo spezzare i cittadini non possono più essere presi in giro dalla politica da questi partiti che li hanno divisi strumentalmente destra e sinistra prendendoli in giro perché non ci credono neanche loro alla destra e alla sinistra ormai quindi i cittadini devono scegliere persone oneste persone che non prendono la politica come un mestiere a vita ma come una missione bene bene quindi questo in pratica un po' l'appello del Movimento 5 Stelle proprio a chiusura di questa trasmissione però così un'ultima battuta in questi cinque anni di Parlamento regionale qual è stata la critica anche quella più cattiva che le ha dato particolarmente fastidio arrivata magari anche dai suoi detrattori o dagli avversari politici c'è stata una critica particolare che le ha dato particolarmente fastidio? ma no in questo momento non mi sì ma beh qualche bugia magari sì le bugie sono quelle che danno fastidio di recente il sindaco Certino quando ho letto fatto leggere quella nota sul gasificatore a Calatafimi voleva fermare insomma la persona la relatrice che stava leggendo quella nota dicendo che erano un cumulo di bugie lei ha continuato dicendo ma come è una nota politica di un deputato di un onorevole non soltanto c'ero anche a firma congiunta mia dell'onorevole di Giampiero Trizzino l'assessore all'ambiente designato e il sindaco ha detto no ma una persona che racconta bugie non si può definire onorevole ecco in quel caso ma capisco che magari era un momento di rabbia magari ecco ma essere definita bugiarda questo sì sicuramente dà fastidio perché non è la verità bene quindi ringraziamo Valentina Palmeri in bocca al lupo per le elezioni per la sua riconferma e come sempre dico a chiusura di questo speciale delle puntate di questo speciale elezioni regionali in bocca al lupo alla nostra Sicilia che credo meriti davvero l'augurio più grande più sincero per poter ripartire grazie ancora e una buona serata grazie a voi grazie a tutti